Torna a spaventare la curva dei contagi da Covid nella provincia di Napoli. In campagna ieri si sono registrati 635 casi su 7.720 tamponi effettuati. 4 nuove casi di positività al Covid-19 riscontrate a Torre del Greco nella giornata di ieri, tre dei quali in forma sintomatica ed uno ospedalizzato. Registrate anche altre tre guarigioni. Lo ha comunicato il Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'ASN Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale. Sospese le lezioni in 5 classi dell'Istituto Torrese e dei Nicola Sasso. Dopo la positività di un docente, la dirigente scolastica ha deciso di prevenire la diffusione del contagio poiché alcuni alunni erano stati a stretto contatto con l'insegnante. Continua nel frattempo l'ulteriore attività di screening dei tamponi già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio. Due nuovi casi di contagio da Covid-19 attore annunziata ieri. Si tratta di una donna e di un uomo rispettivamente di 49 e 24 anni, entrambi asintomatici, posti in isolamento domiciliare e vigilanza attiva. A Castellammare di Stabbia, l'ASL ha rilevato 5 nuovi casi positivi al Covid-19, due dei quali risultati asintomatici, mentre gli altri presentano sintomi febbrili e si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Il sindaco, vista la situazione dei contagi sul nostro territorio, invito tutti a rispettare rigorosamente le regole. Il nuovo DPCM contiene misure che occorre eseguire affinché prima possibile la situazione possa tornare alla normalità. A Castellammare di Stabbia